Il 16 luglio scorso è stato presentato un numero speciale di MF che celebra i 25 anni di attività, un numero che veramente raccoglie testimonianze, inchieste, approfondimenti su quello che è stato questo quarto di secolo per la vita economica italiana. Il suo personale punto di vista di questi 25 anni dell'economia italiana? Sono stati la prima parte anni di forte evoluzione dei mercati finanziari con lo sviluppo dei fondi comuni, con l'introduzione finalmente di criteri di marketing all'interno delle banche, con poi anche il boom della borsa. Poi quando abbiamo svoltato secolo le cose si sono un po' complicate. All'inizio con la guerra del Golfo, nel 1993-94 c'era stata già un primo avvisaglio di crisi, ma poi nel 2002 le torri e poi l'esplosione nel 2008 della crisi per eccesso di finanza, per deviazione della logica. Quindi diciamo i paesi che erano meno sviluppati dal punto di vista finanziario, della cultura finanziaria e dell'interesse verso gli investimenti, fra questi c'è sicuramente l'Italia, basta guardare il numero delle società che sono quadrate in borsa, che non superano di molto le 300 unità. E quindi diciamo con la crisi che è arrivata è cambiato moltissimo. Però anche diciamo una stagione molto interessante di soddisfazioni per lunghi anni, nostra e personale. Con questo proposito volevo chiederle, si chiama Il Libro d'Oro della Finanza e delle Imprese. Qual è stato il ruolo di questo giornale in questi 25 anni, nello sviluppo della cultura economica del paese? Beh dunque, noi siamo nati per essere una casa editrice indipendente. Abbiamo avuto a nascere con classe editore, tre anni prima della nascita di IMF come quotidiano, l'investimento da parte dell'Università Bocconi nel convincimento del professor Guatri di avere una simmetria con quello che lui aveva già fatto nell'Università. Cioè renderla indipendente dal punto di vista economico e quindi avere libertà totale di didattica, di insegnamento, eccetera. Lo stesso principio abbiamo scelto noi e per questo motivo l'indipendenza passa attraverso il conto economico positivo. Non c'è bisogno di avere aiuti. Quindi penso che il contributo sia stato notevole e ci viene questo riconosciuto perché altrimenti non saremmo sul mercato. Ci hanno provato in tanti a entrare nel mercato dell'informazione quotidiana economico-finanziaria e sono tutti usciti di fronte al leader di mercato del Sole 24 Ore. Noi abbiamo scelto di affrontare in maniera separata le due componenti dell'informazione, cioè quella finanziaria con IMF e quella economico-giuridica-fiscale con Italia Oggi. Cioè di dare più specializzazione e di dare la possibilità di scegliere rispetto a un giornale solo che ha molti più pagine da sfogliare ogni giorno per catturare le notizie che servono. Le celebrazioni hanno sempre un sapore un po' stantio talvolta. Noi pensiamo che ogni traguardo che è stato raggiunto deve essere immediatamente un punto di partenza. Quindi noi continueremo. C'è già adesso sul giornale il marchietto del toro, che è il simbolo della borsa con 25 che sono gli anni. E quindi lungo tutto i 12 mesi dal momento in cui abbiamo fatto questo punto della situazione faremo tantissime iniziative sia sui giornali sia combinato con gli altri nostri media, essendo praticamente l'unico, credo, editore italiano che ha giornali quotidiani, settimanali, periodici, siti, cinque, anzi otto canali televisivi, un'agenzia in tempo reale, insomma tutte le forme possibili di media. Quindi abbiamo progetti molto importanti anche specialmente per il momento pubblicitario attuale in cui è evidente che la pianificazione, come era una volta, non esiste più, però esiste la sensibilità che se si propongono delle idee valide, come è stata questa, la risposta c'è. E quindi sono una serie di iniziative assolutamente rigorose dal punto di vista dell'obiettivo di soddisfare l'interesse dei nostri lettori, dei nostri telespettatori, ma, diciamo, molto utili perché danno un risalto e quindi un'attenzione da parte del pubblico che compensa quello che è, diciamo, il momento non particolarmente brillante per usare un eufemismo dell'Italia e del sistema. Il 16 luglio si è tenuto a questa charity dinner che ha raccolto la creme della creme dell'impresa ma anche della cultura italiana. Quali risultati ha avuto? Sono stati abbastanza generosi? Le persone si occupano di economia? Sono già state generose nel momento nel quale avevano accettato di partecipare, quindi, diciamo, Dynamo Camp avrà sicuramente un sostegno significativo come il suo presidente Enzo Manes ha riconosciuto in anticipo, diciamo, anche perché non è la prima volta che facciamo queste iniziative. Una notizia che è trapelata nel corso di questi festeggiamenti è stata l'arrivo di Marcella Bergamini, no? Che darà una mano al marketing per quanto riguarda la televisione e l'autovom, se non sbaglio. Sì, ma non solo, diciamo, perché appunto facendo marketing sulla televisione poi si trascina anche la carta stampata, i siti, la radio, l'agenzia, insomma, c'è tutto che è in movimento e quindi la dottoressa Bergamini ha esperienza interessante non solo, diciamo, nel settore nostro o quello degli editori, ma molto anche da parte di chi investe, quindi può dare, come sta dando, un contributo notevole di capire che cosa le aziende si aspettano, specialmente in un momento come questo. Questo è il motivo per questo? Sì, sì, sì. L'esperienza per questo? Sì, è stata fatta una riorganizzazione anche di tutto il settore del marketing nostro con ruoli diversi, molto importanti, anche sul piano proprio materiale, pratico, di Domenico Ioppolo e quindi, diciamo, c'è un rafforzamento significativo di tutto il sistema. Luglio particolarmente intenso di attività perché, altra notizia, forse per certi aspetti la più importante perché la più eclatante, questo ingresso nell'e-commerce cinese attraverso questo accordo con la piattaforma CCGMO, giusto? Sì, sì, derivano da China Century International Group, che è il gruppo a cui il sistema cinese ha affidato il compito di realizzare una piattaforma B2B in, diciamo, concorrenza con il B2C di Alibaba. Gli investimenti sono miliardari, gli obiettivi sono molti miliardari, a regime pensano di poter transare circa 150 miliardi di dollari. Ma perché un editore si dedica all'e-commerce? Beh, un editore si dedica all'e-commerce perché in tutto il mondo gli editori fanno e-commerce, o meglio, lo fanno quelli che, non dei propri prodotti, hanno trasformato alcune attività di raccolta. La differenza fondamentale che c'è fra l'Italia e altri paesi, per esempio la Germania, dove c'è il fenomeno più significativo di e-commerce e di digitale, che Axel Spring è il 50% di fatturato da questo settore, in pratica il gap italiano è che non abbiamo mai avuto una cultura della pubblicità classificata. In Germania la pubblicità classificata era molto sviluppata, quindi Axel Spring cosa ha deciso? Gli annunci sulle automobili, facciamo un sito sulle automobili, gli annunci su ricerche dei posti di lavoro, facciamo un sito analogo e la ricerca degli immobili lo stesso. In questa maniera però ha aumentato notevolmente i propri ricavi perché mentre prima riceveva solo il pagamento per gli spazi, oggi c'è una provvigione su questo. In Italia questo non è possibile farlo, noi abbiamo avuto la fortuna di essere scelti da Bank of China per il rapporto storico che io ho con la Cina, avendo nel 1978 fatto parte della missione in cui il ministro del commercio destro di allora, Rinaldo Ossola, ebbe l'idea geniale di diventare l'Italia il primo paese a finanziare la Cina. E quindi poi è rimasto questo legame e quindi quando è stato il momento di scegliere per l'Italia che è il primo paese da cui la piattaforma vuole importare prodotti, ci hanno dato la responsabilità prima di main agent per il settore food and beverage, per fashion, luxury, goods e accessori, design. Agente esclusivo per la pubblicità sulla piattaforma e agente esclusivo per la produzione dei contenuti della piattaforma, che sono contenuti video, di testo, eccetera. Recentemente, considerando come noi abbiamo approcciato questo lavoro in maniera estremamente positiva costituendo una nuova società che si chiama CCEC, cioè China Class E-Commerce. Per il settore food and beverage, che rappresenterà la quota più importante di fatturato, siamo diventati provider principali, cioè praticamente provvediamo direttamente ai prodotti. Quindi con questo incarico noi abbiamo la responsabilità di selezionare tutti coloro che producono in Italia nell'ambito dei settori dove siamo o provider o agenti, di fare tutta la pubblicità e quindi chi vuole, soprattutto le piccole e medie aziende, utilizzare questa piattaforma che avrà a regime il terminale in 3 milioni di negozi, che non saranno solo negozi tradizionali, ma anche club, spa, alberghi, ristoranti, in un nuovo modo di fare commercio, che per forza di cose in Cina, anche potendo saltare la fase precedente, stanno facendo. Quindi chi vuole, ma devo dire che ogni settimana abbiamo centinaia e centinaia di richieste di sapere che cosa devono fare, noi rispondiamo a tutto, devono avere determinate caratteristiche. Per noi questa è un'operazione veramente gigantesca.